Cosenza Calcio, allenatore signor Mimmo Toscano, col numero 1 Ambrosi, col numero 2 Morelli, col numero 3 Chianello, col numero 4 Moschella, col numero 5 De Rose, col numero 6 Parisi, col numero 7 Occhiuzzi, col numero 8 Fabio, col numero 9 Cosa, col numero 10 Danti, col numero 11 Bernardi. In panchina, col numero 12 Cosenza, col numero 13 Zangaro, col numero 14 Altomare, col numero 15 Perrelli, col numero 16 Novello, col numero 17 Bacilieri, col numero 18 Alessandro Ambrosi.